Ciao bambini, eccomi qua! Ho pensato a voi, come tutti i giorni, e ho pensato di fare un esperimento di scienze. Beh, è arrivata la primavera, quindi mi è venuta in mente perché non sperimentare la semina e magari con i pomodori che tutti voi avete a casa. Allora, innanzitutto vi voglio dire che cos'è la germinazione. La germinazione è un processo mediante il quale un seme cresce e si sviluppa, fino a diventare prima un germoglio e poi una pianta. Vi dirò che cosa vi serve. Allora, dei pomodorini, un coltello che farete usare a mamma o papà o la nonna, un cucchiaino, un colino, uno scottex e un contenitore delle uova che fungerà da serra e delle uova che poi andremo a vedere come fare il tutto. Ecco a voi e buon divertimento! Ecco bimbi, adesso vi dico l'occorrente per realizzare il nostro piccolo orto felice di pomodori. Un pomodorino, una confezione di uova in plastica, un coltello che mi raccomando farete usare a mamma o papà o un nonno o una nonna, delle uova, quante ne volete, uno spruzzino per vaporizzare la terra, un cacciaviccio a punta sottile oppure un bastoncino per spiedini in acciaio come quello che ho usato io e uno scottex. Questa fase è un po' delicata perché è facile rompere l'uovo. Fatevi aiutare da un adulto. Bisogna fare un buchino nella parte alta dell'uovo e poi con le dita staccate le piccole parti del guscio fino a realizzare un foro di circa 2 cm. Ora fai uscire l'uovo dal guscio. Sciacqualo sotto l'acqua con molta delicatezza e appoggialo sul palmo della tua mano. Cerca di fare un piccolo foro nella parte bassa. Fai attenzione a non romperlo e per non sprecare le uova se vuoi puoi anche fare una bella torta. Fai tagliare i pomodorini da un adulto. Togli la polpa e fai uscire i semini. Mettili in una ciotola. Poi con un colino sciacquoli sotto l'acqua corrente. Fate asciugare i semini sulla carta assorbente. Riempite il vostro ovetto di terra. Con l'aiuto di un paio di pinzette prendete i semini e metteteli nella terra. Coprite ora i semini con poca terra e con il vaporizzatore annaffiateli. Mettete il vostro contenitore serra vicino alla finestra e con pazienza ogni giorno occupatevi del vostro piccolo orto. Annaffiateli e aspettate. Fra 7 giorni dovrebbero spuntare i primi germogli. Arrivederci bambini. A presto. Ciao. Ciao bambini. Aspetto di sapere come va il vostro orto felice. A presto. Un bacione.